Sara e Marti potremmo fare tantissime cose insieme e vi potranno raccontare tutto di Londra Guarda Ragazze Da Londra Qua Ciao Benedetta Ciao Sire Ciao Non c'è una novità? Novità? Sì Ci sono due mie amiche Sara e Marti Sara e chi? Marti Da Londra Si trasferiscono qui a Bevagna Mi fa piacere Da Londra L'hai già detto? Come se bastasse arrivare da Londra per avere successo Forse ti potrebbero aiutare con la moda Guarda che scarpe T'ho detto tutto Magari adesso basterà un po' la crista Sapendo che arrivano due ragazze più avanti di lei Magari potrebbero insegnare qualcosa sulla moda a te Non te lo mica la competizione Qui sono sempre e comunque io la prima in tutto Mi dispiace molto per le tue amiche Avranno tanto lavoro da fare con te Lo so che sta rodendo un sacco Sta arrivando una nuova storia italiana ancora più vicina a te La nuova serie Sara e Marti Hashtag la nostra storia Su Disney Channel